Ecco la finale per il primo e il secondo posto tra la Virtus Castelfrentano e il Ripa 2007. I nostri ragazzi hanno la casacca verde e la finale, due tempi da dieci minuti, partita secca. Siamo arrivati in finale, siamo arrivati in finale, i nostri primi calci. Ecco qua c'è il mister Gabriele, sull'altro settore sta giocando i piccolini. Nel 2011-2012 c'è la mister Anna, questa è la partita più importante della serata. E' la finale tra la Virtus Castelfrentano e il Ripa. Concentrate ragazzi! Sono accesi i fari, siamo proprio all'imprunire. Due tempi da dieci minuti, una grande soddisfazione per la società, per la Virtus Castelfrentano, essere arrivati in finale dopo che abbiamo battuto il Miglianico. sarebbe la società che ha organizzato il torneo, l'evento, adesso finale. Non ha fiscato, dove sta l'arbitro? Hanno fatto un fallo non rilevato dall'arbitro. Se non dite nulla, uno pensa che non sia vero. Come vi chiamate? Francesco! Francesco! Alessandro! Andrò! Ecco un'azione dei nostri, un'azione c'è Saverio. Giuliano! Daniele! Alessandro! E lui come si chiama? Alessandro! Palo!